allora quello che vedete qua sono i famosi giardini reali inaugurati da re e oggi centro di spazio di degrado guardate queste sono le colonne d'entrata del giardino inaugurato da re guardate che condizioni è sporcizia degrado guardate ed ecco la situazione dei giardini reali giardini storici tutto un abbandono un degrado centro di spazio da parte di persone extra comunitarie marocchini tunisini rumini quello è il palco della musica guardate come è ridotto un vero proprio schifo amici di videospezia guardate che come è ridotto uno schifo uno schifo veramente ringraziamo il partito democratico signor federici pagano e tutti i soci per lo schifo di invasione da parte degli estracomunitari di qualsiasi razza